Buongiorno a tutti e soprattutto grazie di essere qua. Una conferenza stampa a cui teniamo particolarmente perché nel momento del nostro insediamento abbiamo dato un orientamento di cambio di indirizzo e poi chiaramente tra l'orientamento e mettere a terra le leggi, le risorse, i bandi passa sicuramente un lasso di tempo, però diciamo che oggi a distanza di praticamente 20 mesi da quel periodo noi mettiamo in campo una programmazione nuova che sta entrando nel vivo rispetto a quello che è il nostro intendimento, la nostra visione, il nostro progetto per il rilancio della regione Marche. Devo dire che quando noi abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni di natura economica, di natura anche politica, intesa come politica di sviluppo, sicuramente il Covid aveva avuto solo la prima parte, quella del 2020, della primavera del 2020 e non avevamo vissuto gli effetti devastanti e anche se volete fortemente preoccupanti per gran parte della nostra economia che poi si sono verificati tra la fine del 2020 e tutto il 2021 fino alla fine. Chiaramente erano anche momenti in cui non era prevedibile quello che poi sta accadendo in Ucraina con altrettanti effetti pesanti e devastanti perché siamo in una fase dove la globalizzazione, la geopolitica sta cambiando molto velocemente. Abbiamo una situazione complessiva dove di fatto il prezzo dell'energia, il prezzo del carburante, l'inflazione, il costo delle materie prime sta portando un quadro molto complesso. Certamente nonostante questo quadro molto complesso noi mettiamo in campo risorse importanti che guardano alla nostra regione, è una prospettiva che noi vediamo comunque con un'economia forte perché al netto di tutti questi variabili che sono però indipendenti dagli imprenditori marchigiani e che sono indipendenti anche dalla volontà di natura politica che possono comunque essere cambiati da noi, noi abbiamo dei dati che testimoniano un'economia marchigiana forte, salda, con una internazionalizzazione, con degli effetti sulle internazionalizzazioni positivi e crediamo che andando a strutturare meglio questa azione nonostante tutti questi fattori negativi noi possiamo dare un cambio di passo. Su questo stiamo lavorando, per questo stiamo lavorando, lo stiamo facendo con serietà, con determinazione ma anche con tutte le risorse che devono essere messe in campo con una nuova programmazione europea. La nuova programmazione europea è una grande opportunità che non deve essere spiegata intorno a logiche assistenzialistiche e parcellizzanti ma bisogna avere il coraggio e la visione di perseguire obiettivi che sono obiettivi di sistema, obiettivi di sistema e obiettivi strutturati e strutturali. Su questo ora passo la parola però al Vice Presidente Mirko Carloni che entrerà nel dettaglio di quelli che sono i provvedimenti che noi stiamo mettendo in campo oggi, che abbiamo messo in campo la settimana scorsa e anche quelli che poi seguiranno. Mi allontano Presidente se posso e levo la maschetta. Allora intanto grazie per questa conferenza stampa, grazie a chi ha lavorato a questi due bandi. Faccio un attimo un preambolo che serve a spiegare il perché di questi bandi. L'accertamento e il rapporto di Banca d'Italia presentato la settimana scorsa ad Ancona dimostra che il fenomeno di instabilità che abbiamo vissuto negli ultimi anni non è un fenomeno passeggero. Quello che in economia si chiama cigno nero, cioè l'evento avverso, imprevedibile, che non serve nemmeno prepararsi perché è proprio perché è imprevedibile, cambia i parametri economici e travolge tutto. Diciamo che quando il cigno nero che è stato autorizzato da Taleb è una volta, è un'emergenza, si gestisce come un'emergenza, ci si prepara a superarlo. Quando il cigno nero viene una volta alla settimana non è più un cigno nero. E quindi stiamo parlando di una situazione di economia che muta nei fondamentali troppo spesso e in qualche modo mette in discussione l'economia stessa perché fa saltare i parametri del riferimento. In ogni caso la scelta che noi abbiamo preso dopo aver ascoltato anche il mondo accademico, dopo aver ascoltato anche tanti imprenditori, qual è? Di fronte a tanti scenari avversi, a situazioni imprevedibili che possono cambiare i costi operativi, l'ultima grande emergenza è quella dei costi operativi che vengono sbalzati dalla materia prima o dall'energia e che fanno saltare tutti i riferimenti a cui un'azienda era preparata nel proprio bilancio. Quindi di fronte a quello scenario, mentre quello precedente del Covid prevedeva il crollo delle vendite e quello prima ancora il crollo degli affidamenti finanziari con le banche, questo nuovo ci mette di fronte a nuovi rischi e nuovi pericoli. Di fronte a questo, per cosa si può fare? Non è che possiamo prevedere la prossima emergenza, stiamo di fronte a una situazione economica instabile che può cambiare continuamente e prepararsi al prossimo cambiamento è difficilissimo, se non impossibile. Qualcuno che fa analisi sui rischi direbbe inutile. Ma una cosa si può fare, proprio sulla teoria del cegno nero, che è l'antifragilità. L'antifragilità significa rendere robusto ciò che funziona, cioè renderlo invulnerabile. Allora questa di oggi è davvero una conferenza stampa molto importante, perché noi, conformi a quello che sta succedendo e prevedendo anche un po' gli scenari, stiamo dicendo all'economia marchigiana che vogliamo rafforzare i fondamentali della nostra economia, cioè quello che funziona lo vogliamo mettere in sicurezza. Questo rappresenta i due bandi di oggi, rafforzare e gestire il caos cercando di trarne vantaggio. I nostri mercati, come ha detto giustamente il Presidente, nel 21 stavano volando, perché sia il prodotto che la tipologia di attività, della meccanica, della moda, del mobile e di quant'altro è il nostro tessuto economico stava andando molto bene, sia come prodotto interno che come esportazione. È ovviamente mortificato da quello che è accaduto con l'Ucraina, perché abbiamo degli scenari che noi ci colpiscono direttamente, oltre che c'è un rischio molto importante sui costi energetici e i costi di materia prima. Di fronte a questa cosa noi possiamo soltanto sostenere, rafforzare le filiere che esistono. E questo faceva parte già del programma elettorale del Presidente Accoroli, per cui è in coerenza con quel programma, ma lo è ancora di più alla luce di quello che sta accadendo. Cioè la massa critica che il nostro modello economico prevedeva in passato, quella del metalmezzato, teorizzato da Foix, che era l'esempio di un'imprenditoria familiare con il campannone e la casa e la famiglia che coincideva con l'azienda, un modello economico dal punto di vista sociale perfetto, perché si diceva che era un modello economico senza fratture sociali, cioè una industrializzazione senza fratture sociali che invece hanno vissuto altri territori. Quel modello economico è completamente saltato, per varie ragioni che adesso non ha senso spiegare. Però certamente noi abbiamo il dovere di individuare un nuovo modello economico e alla luce della prossima programmazione europea non possiamo permetterci di sbagliare come collocare i soldi. Quindi ci sono tante aziende che hanno bisogno di sviluppare investimenti, di farlo in modo aggregato, perché l'aggregazione genera quella massa critica, quella forza per stare sui mercati ed essere competitivi. Questo è il modello economico, la filiera e l'ecosistema. La filiera prevede anche un leader che possa in qualche modo trascinare, far crescere tutta la filiera supply chain, cioè la catena dei fornitori, oppure un ecosistema che tra di loro fanno più o meno lo stesso settore e che decidono di fare degli investimenti a fattore comune. E vi spiego in che senso. Allora, gli investimenti che le imprese che si mettono in filiera o in ecosistema possono sostenere sono, su cui noi daremo contribuzione, sono le piattaforme logistiche, le piattaforme informatiche, i centri di progettazione e design, i laboratori di sperimentazione e ricerca, le strutture commerciali, operative e distributive, e i centri di assistenza clienti. Gli investimenti sostenuti possono essere i data center, i siti, le piattaforme web, per la commercializzazione, anche i piani di comunicazione e marketing, la legislazione dei marchi, i sistemi di gestione della catena del valore, anche i fini di sviluppo dei sistemi dell'economia circolare, i sistemi energetici efficienti e sostenibili, e le strutture di welfare aziendale. A che cosa si rivolge questo bando, quello delle filiere degli ecosistemi? Si rivolge alla micro, piccola e media impresa, costituita in contratti di rete, perché quella è la forma giuridica che oggi abbiamo a disposizione, e che devono essere almeno tre imprese, ovviamente sono escluse quelle agricole, quelle finanziarie e assicurative, anche quelle turistiche, commerciali e i professionalismi. Può partecipare anche a una grande impresa, però deve avere tre piccole e medie imprese al seguito, perché appunto quella genera la filiera, per cui se io sono una grande industria, voglio far crescere i miei fornitori, farli strutturare, diventare più competitivi, crea un progetto di filiera. Nessuna impresa può avere una quota inferiore alla metà del peso numerico, e per esempio se la rete è fatta da cinque imprese, il peso medio è il 20%, nessuna impresa può avere meno del 10%. Le spese ammissibili sono le opere murari, impiantistiche, l'acquisto dei macchinari, gli investimenti, quindi soprattutto i brevetti, marchi, modelli, licenze, tutto ciò che rende competitivo e innovativo un sistema. Spese di consulenza tecnica, progettazione, spese per il personale e spese generali. Il contributo regionale è del 50% delle spese sostenute, l'investimento minimo deve essere di 50.000 euro e il contributo massimo può essere di 400.000 euro, quindi un contributo sostanzioso che diamo alle reti di imprese che vogliono fare investimenti. E il progetto deve avere la durata massima di 18 mesi, prorogabile al massimo a 6 mesi. Questi sono i criteri, con grande trasparenza, mi faceva piacere presentarli in conferenza stampa, in modo che ci sia la massima visibilità sul percorso, quindi chiarezza nell'indulazione degli obiettivi. È chiaro che noi valuteremo gli obiettivi che questa filiera si dà, perché ci interessa quello, capire in che modo quel gruppo di imprese intende rendersi competitivo, fattibilità tecnica del progetto, sostenibilità economica, poi strategicità, impatto previsto sulla competitività, sull'occupazione, sulla sostenibilità ambientale e il contributo al rafforzamento della filiera. Elementi di priorità, ovviamente contributo agli obiettivi della S3, la S3 è la specializzazione intelligente, poi se c'è una slide spieghiamo anche quali sono le traiettorie di innovazione, il numero di micro e piccole imprese coinvolte, ovviamente più è numeroso, più contributi e più sarà l'elemento di priorità, la partecipazione maggioritaria di imprese con sede legale e operativa nelle aree interne, partecipazione maggioritaria di imprese giovanili e startup innovative, proprio nella logica del rafforzamento della innovatività e, perdonatemi, abbiamo messo anche, ci tenevo a un criterio di priorità sulla impresa femminile. Il bando verrà pubblicato oggi pomeriggio, verrà aperto il 30 giugno fino al 30 settembre. Se mi caricate l'altro, per favore. Questo delle filiere è il bando un po' più complesso, perché prevede una progettazione interimprenditoriale, per questo è molto importante il ruolo anche della stampa, perché serve ed è fondamentale che ci sia una divulgazione. Molti imprenditori ci chiedono di essere sostenuti, noi siamo convinti che il luogo e il modello economico dell'aggregazione renderà più forte rispetto ai rischi dei mercati, rispetto ai rischi che viviamo e che vivono tutti i giorni sui mercati. E poi l'altro pilastro, i due pilastri di questo sviluppo economico sono da un lato le filiere degli ecosistemi e dall'altro gli investimenti. Abbiamo notizia di tanti, anche gruppi industriali, internazionali, che vogliono riportare le filiere produttive nelle marche. Ovviamente nella ricerca di un territorio dove riportare produzione e manifattura dall'estero magari può incidere molto anche la presenza di filiere volute, perché ovviamente so di avere dei fornitori qualificati in quel territorio. Allora, gli obiettivi sono la Regione Marche sostiene la realizzazione di piani industriali. L'innovazione di questo bando qual è? Che per la prima volta la Regione Marche non dà un contributo singolo in ogni settore, un contributo disommogenio. In questo caso l'imprenditore presenta un piano industriale alla Regione e dentro pesca da più settori, proprio perché tiene insieme tutti i fabbisogni industriali. Quindi l'obiettivo che noi ci siamo dati è la crescita dell'occupazione ovviamente, perché il contributo si prende perché impatta sull'occupazione e l'aumento del livello tecnologico delle produzioni. La finalità qual è del piano industriale che noi ci aspettiamo dagli imprenditori che vogliono fare questi accordi. Promuovere l'espansione delle imprese, favorire l'attrazione degli investimenti. In particolar modo abbiamo scritto dai marchigiani nel mondo, perché questa è una richiesta che ci è stata fatta più volte da quel milione e mezzo di marchigiani che vive all'estero e che magari fa l'industriale in altri paesi e perché no vorrebbe fare quella che si chiama economia di ritorno. Sostenere il rientro di investimenti da paesi esteri, quello che si chiama reshoring, utilizzando magari capannoni o produzioni abbandonate, e sostenere ovviamente la reindustrializzazione di imprese in crisi. L'attuazione qual è? Verrà l'impresa interessata, manderà un piano industriale con un programma di investimenti coerenti tra loro. Il programma quando è approvato diviene un accordo regionale di investimento e innovazione tra le imprese e la regione. Dura tre anni e definisce l'entità degli investimenti e il contributo occupazionale. Deve essere minimo di 20 addetti. Allora, il contenuto del programma deve prevedere un investimento produttivo, realizzazione di una nuova unità produttiva, quindi una costruzione, l'ampliamento di un'unità produttiva esistente, la riqualificazione di un'unità produttiva inutilizzata. Questo è il primo obiettivo. La realizzazione di un'infrastruttura di ricerca e infrastruttura tecnologica e poi, facoltativamente, c'è un altro piano che è quello che rende completo l'accordo. La ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, l'innovazione energetica e poi spiegherà l'assessore, il mio collega Guzzi, dentro, nel piano industriale, c'è anche la formazione e le assunzioni e la parte occupazionale e lavorativa. Perché in questo modo il piano industriale è completo. I destinatari sono le imprese nella forma di società di capitale, anche in forma cooperativa o consortile, ad esclusione, ovviamente, sempre delle imprese agricole che hanno, ovviamente, un'altra linea di finanziamento. È possibile presentare il piano industriale integrato in filiera tra più imprese e un'associazione temporanea. Gli investimenti minimi. L'investimento produttivo deve essere la spesa minima a un milione di euro, l'investimento produttivo di eventuali partner i nati, 200 mila. L'infrastruttura di ricerca tecnologica, un milione. Ricerca e sviluppo, mezzo milione. Innovazione di prodotto, 80 mila. Innovazione energetico-ambientale, 200. E, ovviamente, poi, sul personale, invece, sulla formazione, non c'è una soglia minima. Quote di contribuzione. Progetto specifico di investimento, queste sono le quote di contribuzione che, ovviamente, essendo un bando rivolto anche alla grande industria, quindi sopra i 200 dipendenti, ha delle soglie di percentuale che sono discendenti in base al numero di addetti. Però, certamente, è il primo grande bando che viene fatto per l'industria, questo. Gli investimenti minimi, ovviamente, sono calcolati su un incremento occupazionale, perché l'impatto vero che noi vorremmo produrre è di creare nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. E, quindi, anche il contributo massimo si calcola in base all'impatto occupazionale. Oltre, ovviamente, a tutto quello che abbiamo detto, sommato in tutte le sue parti. E' chiaro che un contributo di un milione e mezzo, fondo perduto, un'azienda, che può arrivare fino a due e mezzo, non è un contributo qualunque. Non stiamo parlando dei contributi a pioggia. Stiamo parlando di un contributo di politica industriale reale e significativo, che può, di per sé, stimolare la volontà di un imprenditore a venire a investire nelle marche. Quindi questa è la reazione che noi vorremmo generare. Il programma dura tre anni, come ho detto, ma è estendibile a sei, e il completamento può avere anche una proroga, e l'occupazione deve essere mantenuta almeno tre anni. L'elemento di priorità ovviamente è essere dentro gli obiettivi di specializzazione intelligente, perché il servizio industria della regione Marche ha fatto un lavoro per quasi un anno di confronto con il mondo produttivo per capire quali erano le traiettorie di innovazione. Quindi questo bando è coerente, ma anche l'altro, è coerente ovviamente con quella scelta, che è quello che noi abbiamo presentato all'Europa e su cui purtroppo, lasciatemelo dire, attendiamo da troppo anni l'attivazione, perché si chiamava 21-27, siamo nel 22 e fra un po' sta per finire e ancora dobbiamo vedere una lira. Quindi non è proprio facilissimo fare politica industriale così, però noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo anticipato il finanziamento vero e proprio con questi due bandi, che poi ovviamente saranno spondabili perché coerenti appunto con quel piano. Quindi gli obiettivi dell'S3 li sapete. La localizzazione delle aree di crisi, la quota del incremento occupazionale, le caratteristiche di sostenibilità e di inclusione, la presenza di un accordo sindacale. Ecco, noi abbiamo voluto mettere anche l'accordo sindacale proprio perché c'è, oltre all'impatto occupazionale, anche un fatto di formazione. E anche questo bando, come l'altro, verrà pubblicato oggi pomeriggio, starà aperto per la presentazione delle domande dei piani industriali dal 30 giugno al 30 settembre. Quindi io credo che entrambi, entrambi i due bandi sono un'opportunità vera di investimento per il nostro territorio e di rilancio industriale, oltre che della visione che noi vogliamo dare. penso e sono convinto che il mondo produttivo dell'altro, ma anche di questo bando, potranno trovare vantaggio e stimoli a fare quegli investimenti che sono davvero necessari oggi, che tutti gli indicatori economici ci fanno percepire, per essere più competitivi e per poter superare anche le prossime tempeste in arrivo. Grazie. Grazie al nostro Vice Presidente, ora la parola passa all'Assessore Aguzzi. Sarò anche molto rapido, nel senso che sia il Presidente che il Vice Presidente hanno ovviamente motivato, spiegato, è entrato anche nei dettagli di quelle che sono le azioni che l'Amministrazione regionale intende mettere in campo, da qui alla prospettiva, per far fronte a quella che è una situazione indubbiamente molto molto difficile e delicata e anche inedita, perché noi tutti speravamo nella cosiddetta fine dell'emergenza pandemica per poi assistere a un rilancio. Questo rilancio effettivamente c'è, c'è stato, c'è iniziato, è intrapreso. Poi questa situazione della crisi internazionale dovuta alla guerra sta complicando un po' e rendere più incerta tutta la situazione, l'aumento dei prezzi, la difficoltà a reperire i materiali. È una situazione inedita, l'ha descritta bene prima il Vice Presidente dicendo che si pongono azioni a volte che poi magari non hanno un diretto riscontro perché sta cambiando, in quel momento cambia magari il panorama generale, nazionale, internazionale. Quindi a cosa si punta? Si punta, come diceva prima Carloni, Mirko, a garantire le attività che in qualche modo hanno le gambe per camminare, cioè quelle già strutturate, quelle già presenti che in qualche modo vanno rafforzate per far fronte comunque a qualsiasi urto che da qui alla prospettiva si possa in qualche modo incontrare. Come dire, nel momento che non sappiamo bene cosa potrà succedere, ma questo non lo si sa, non nella regione Marche, ma a livello mondiale ed europeo sicuro, oltre che nazionale, rafforziamo quello che di certo già abbiamo ed è una situazione secondo me molto intelligente, molto forte da porre in campo. Qual è la cosa inedita, tra virgolette inedita, anche perché detta così sembrerebbe la BC, però spesso non è stato fatto in questo modo, parlo ovviamente dell'attuale amministrazione siamo qui da 20 anni, parlo storicamente, il lavoro un po' a compartimenti stagni, no? Come dire, adesso faccio un esempio che non c'entra nulla con oggi, agricoltura e ambiente, magari l'ambiente porta avanti un'iniziativa, l'agricoltura porta avanti un'altra e magari non si parlano tra loro e potrebbero trovare una soluzione che può essere molto migliore rispetto alle due che sono messe in campo. In questo caso, ugualmente, qui c'è un lavoro strutturale molto ben calibrato e portato avanti da un settore che è quello che sta seguendo il vicepresidente, quindi con l'attività legata all'imprenditoria, all'aiuto all'impresa, sostegno dell'impresa, eccetera, che però per forza di cose poi si andranno a intersecare nel momento che il bando sarà espletato, che ci saranno le richieste in arrivo, che saranno, spero, tante proposte che provengono dal mondo imprenditoriale anche magari di ritorno verso la nostra regione come spiegava poco fa benissimo il vicepresidente e poi si scontrano con la carenza di personale o la mancanza di personale specializzato per quel tipo di settore, quello che purtroppo stiamo vedendo anche in queste ore perché in queste ore spessissimo si pone la questione da parte di tante imprese e imprenditori ma noi mica abbiamo il personale, mica si trova il personale al di là del personale generico neanche quello a volte ma soprattutto di quello specializzato o in grado di svolgere un determinato tipo di lavoro. Noi oggi non possiamo sapere chi in quanti e per quali settori risponderanno a questi bandi quindi mettere in campo oggi come settore lavoro e formazione dei bandi formativi senza sapere effettivamente quale sarà poi la richiesta proveniente da questi bandi sarebbe uno di quei famosi doppioni che magari possono venire spontanei nella buona volontà di ognuno di noi di fare delle cose utili e poi magari non si sposano tra loro noi formiamo i tornitori dicono stupidaggine di là arrivano le proposte per i saldatori adesso proprio generalizzo le prime due cose che vengono in mente ma sono reali. Ecco, di conseguenza portare avanti insieme questo tipo di iniziativa vuol dire predisporci alla seconda fase ma non è una seconda fase è un tutt'uno di questo proseguo di attività nel momento che imprese aderiscono ai bandi portano proposte chiedono sostegno investono anche in personale in ampliamento delle loro imprese è una peculiarità dei bandi oltretutto è un obbligo ma del tutto motivato è ovvio vediamo che tipo di richieste arrivano e questo connubio di queste attività tra uffici diversi assessorati diversi che però non vogliono lavorare ai compartimenti stagni seguire passo passo l'evoluzione di questa situazione per poi fornire sostegno all'impresa a parte in questo caso all'assunzione da parte dell'assessorato che magari riguarda il lavoro quindi seguito regolarmente da me in questo caso ed anche poi la formazione mirata secondo di quanto viene richiesto come attività lavorativa guardate quello della formazione che magari la si dà quasi per scontata nel modo storico di fare si fanno i bandi eccetera oggi diventa sempre di più un'esigenza continua non per niente la chiamiamo formazione continua perché anche chi opera all'interno di un'impresa e non cambia lavoro non cambia impresa ma cambia il modo di lavorare quante persone sono abituate a lavorare in un modo e poi per fare lo stesso lavoro nello stesso macchinario oggi devono addentrarsi nella digitalizzazione nell'attività che non hanno conosciuto storicamente non hanno portato storicamente e vanno formate continuamente quindi invece di operare a compartimenti stagni o magari guardandosi a volte a distanza e calibrando magari poi male anche le situazioni che dovrebbero invece essere previste quella di aver intuito che una situazione di questo genere era bene portarla avanti insieme come un'unica attività perché un'unica attività è la crescita del nostro territorio e della nostra impresa il consolidamento della nostra impresa sui nostri territori della nostra occupazione quindi questo è lo spirito di questa attività io oggi non posso entrare nel merito di che tipo di formazione faremo perché la formazione sarà calibrata a secondo di quella che sarà poi la richiesta e la proposta da parte dell'impresa quindi io mi fermo qui perché lo dico breve indubbiamente ma il senso di queste inattive è questo e credo che sia un senso molto lungimirante e molto attuale rispetto alle esigenze che abbiamo di fronte sfide ai noi io credo ci metto la ciliegina negativa alla fine ma che sarà forse più problematica che quello che possiamo immaginare perché io mi immagino già cosa poter succedere tra settembre ottobre e novembre con queste carenze di materie prime coste dell'energia eccetera per quello che riguarda l'impatto sull'impresa alla ripresa del post ferie per chi farà le ferie speriamo che io mi sbagli speriamo che io mi sbagli grazie al nostro sessore Stefano Uzi adesso vorrei chiedere se ci sono domande chiedere quante risorse si allora grazie per la domanda ovviamente come risponderebbe uno molto più importante di me whatever it takes cioè tutto quello che serve perché questa è la strategia che noi vogliamo calibrare sulla regione oggi partiamo con le nostre risorse cioè con pochi soldi perché dovevamo aprire il bando e purtroppo purtroppo l'ho detto prima cioè programmazione europea 21-27 siamo a metà del 22 ancora non c'è niente arriverà a fine anno però noi ci siamo detti non possiamo attendere ulteriormente e abbiamo fatto un lavoro di consultazioni col territorio Bertini Moscatelli la Bussoletti hanno fatto un lavoro di consultazione nel territorio enorme coordinati dal comandante Talarico e abbiamo detto anche agli altri colleghi del servizio come diceva prima bene Aguzzi Mauro Terzoni Rocchi cioè facciamo una cosa olistica perché l'imprenditore quando guarda la regione non è che vede Carloni Aguzzi dice io voglio fare degli investimenti la formazione come diceva bene l'assessore è diventata parte fondamentale di quegli investimenti perché non c'è più un'intermediazione lavorativa diversa quindi noi non lo sappiamo quanti soldi servono per rispondere sappiamo cosa serve o perlomeno abbiamo la presunzione di aver capito dopo averli ascoltati che cosa può servire e dopo aver ascoltato l'università perché per la verità questo è il frutto anche di tanti confronti con il sistema universitario e accademico e a questo punto diciamo l'imprenditore vuole dalla regione un muro diciamo intermato su cui appoggiare gli investimenti abbiamo di fronte circa 300 milioni per le imprese da parte del PORFESLE adesso non dico li metteremo tutti qui perché non è possibile ma certamente abbiamo deciso che questa è la strategia prioritaria questi sono i due pilastri e vorremmo un'impresa che è capace di fare investimenti di riuscire a innovare di fare competizione di fare piattaforme di ricerca di fare brevetti di trarre start up di in qualche modo fare anche quella formazione interna all'azienda che tante volte ci hanno chiesto gli imprenditori quante volte avete sentito dire gli imprenditori trattaci a noi i soldi li formiamo noi i dipendenti che ci servono un'academy aziendale è sicuramente molto più conforme all'esigenza aziendale di quello che può fare la pubblica amministrazione quindi in questo oggi noi decliniamo la nostra visione sul rilancio industriale ed economico della regione quante risorse oggi parte con poche risorse per la verità ma contiamo che da qui a quando si chiuderà il bando si potrà oggi sono 4 milioni e 4 milioni si potranno spondare su tutti quegli altri che arriveranno dall'Europa cioè anche investire su imprese che si assumono su loro lo sviluppo di un territorio di una filiera quindi significa che vogliono investire trainare lo sviluppo l'occupazione l'innovazione tutti i fenomeni quindi ecco io direi una visione molto inclusiva dove l'impresa non è centrale a se stessa ma è centrale a un progetto complessivo certo infatti è legata molto al territorio il presidente mi permette di vado oltre siccome noi siamo le marche e siamo plurali in tutto qui c'è da fare un lavoro calibrato territorio per territorio perché cambiano gli scenari continuamente quindi possono nascere filiere omogenee tra di loro ma diverse ma legate a un piccola parte del territorio e noi su quello e su quella progettazione ma c'è una ragione soprattutto uno dei motivi del crollo del modello economico marchigiano è la fiducia del sistema del credito cioè una volta una persona andava in banca guardava negli occhi il direttore e gli davano fiducia e il denaro per aprire un'azienda per fare investimenti oggi non è più così e quindi se noi non diamo la forza anche per fare un rating di filiera che oggi le banche sono disposte a fare l'accesso al credito sarà sempre più difficile perché mentre il mondo va in una direzione l'Europa va nella direzione opposta cioè l'accesso al credito subisce delle modifiche il rigidimento da parte del sistema bancario che è penalizzante per la nostra economia il nostro piccolo imprenditore di fronte alla valutazione nuda e cruda di un rating bancario rischia di non accedere più ai soldi delle banche quindi noi questo è il problema principale lo possiamo risolvere sostenendolo facendolo crescere ma anche dandogli una crescita che possa diventare finanziaria perché il rating di filiera potrebbe essere la prospettiva di tante micro imprese sono pochissimi grazie 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 grazie